In nome di una città sempre più accogliente e solidale, il Comune di Napoli approva la Carta di Diritti e Doveri di Cittadinanza per la Popolazione Migrante presente sul territorio. Un provvedimento innovativo reso possibile grazie al contributo del Centro Studi Reset del Professor Ugo Marani e che mira a potenziare i servizi offerti dal Comune agli stranieri che vivono in città. Dalle più semplici regole di accertamento dell'identità all'ampliamento della rete di garanzie in favore di adulti e minori, il documento rappresenta un decalogo di diritti e doveri che l'amministrazione lancia come stimolo anche per discutere a livello nazionale di una legge sull'immigrazione nel nostro Paese. Abbiamo colmato una lacuna legislativa, nonostante il Presidente della Repubblica più volte avesse sollecitato il Parlamento a legiferare sul just logic, cioè dare la cittadinanza ai figli degli immigrati che nascono in Italia, noi l'abbiamo fatto a Napoli. Diamo una cittadinanza onoraria e una carta che segue un decalogo importante con diritti e doveri gli stessi che hanno i napoletani italiani che nascono nella nostra città. Ancora una volta Napoli città dei diritti come lo è stato con l'acqua pubblica, con il regista delle unioni civili, col testamento biologico, colmiamo delle lacune sperando che il prossimo Parlamento con leggi ordinarie e costituzionalmente orientate le possa finalmente colmare.